Chiamare, chiamare, a mostrare, chiampecchiare Ciao ragazze! Ciao ragazzi! E io oggi qua, nuovo video! Con la Nenzina, io sono Parisa Dolcella e la Nenzina è la mia domanda Seguiteci su Instagram e su Snapchat Ah così? Seguiteci perché sennò veniamo a casa vostra e vi facciamo molto male E vi buttiamo nella doccia e vi mettiamo le uova in testa E ora è giusto Quindi seguiteci su Snapchat Snapchat? Guardate, io lo pronunciavo così bene Snap-chat No, no, si dice Snapchat Snapchat, Instagram Instagram e Facebook Seguiteci mi raccomando, vi lasciamo tutti i link nei box Info me siamo un pazzo totale Esatto, più di quello che siamo a un momento Ragazzi, se ho un commento a rivedere Shopping Ma appizzi gli occhi Perché le cose che abbiamo comprato sono cose molto serie ragazzi Sicuramente le tue I saldi sono una cosa seria Quindi abbiamo comprato tante cose bellissime Mi raccomando lasciateci tanti like Se vi piacciono i video con Nancy Se volete tanti video con Nancy Se no, se no tanti like La praticamente la butto dal video A questa maglietta Che so già che mi chiederete Guardate anche il video precedente A Hool Che ho fatto con Max A Hool di coppia E dove appunto vi ho cominciato a vedere Questa canottierina Bellissima con le margheritine Ma adesso iniziamo Allora, io da Stradivari Ho congelato queste cosine Prima di tutto un pantaloncino bianco La mia prima volta Un pantaloncino bianco Grazie La prima volta Sì, vi giuro È bello Bellissimo Che ho nell'altro video No, ma il mio è più bello Perché questo ho vita alta E poi qui è tutto stilacciato È bellissimo, ragazzi Poi ho preso Un altro pantaloncino Perché io di estate Indosso solo pantaloncini Sì, è vero Questo qua di jeans Questo qua di jeans Questo non è proprio scuro Perché ho 800.000 pantaloncini più scuro Questo invece è un blu elettrico È bello È particolare Sì, mi piace È sempre un po' alto in vita Con cui mi piace un sacco Yeah, 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 yeah L'ho pagato pochissimo Non mi ricordo quanto Poi Ho fatto sbagli Poi ho preso questa magliettina qui A qua Questa è troppo bella Questa l'avevo presa già righi Senza saldi Vabbè, ora l'ho presa Con qua Infatti costa 6 euro Questa è carina Perché quella che si fa Il nodo sotto È un nodo sotto Si stringe Proprio carina, ragazzi È un po' Larga, mi piace Veloce perché dobbiamo andare a mangiare Poi Ah, poi ho preso Questo top che indosso Sempre da Strativars Lo vedete anche indossato L'effetto È tipo color senape E l'ho preso uguale Color bordeaux Ovviamente Io invece ho preso Da Strativars 3,95 euro È lo stesso Lo stesso voto Si, tu mi hai copiato Ovviamente Perché costava solo 3,95 Si, non ho spesso E l'ho preso perché È tipo un crop top corto Molto molto 6,84 euro Ve lo sono preso Guardate questo colore Guardate Ah, ecco Mi identica Ecco questo qua È bello Color senape E poi sempre da Strativars Su questa magliettina Che c'è un sacco di crop top carini Eh, te stai chiedendo Questa pure è carina Questa costa 9,90 Ed è praticamente con il collo alto un po' Tipo lupetto Però è sempre È tipo lupetto stretta E non molto lunga Bel colore È proprio prugna Ho pensato di mettere la binalla elegante Tipo con una gonna La sera Secondo me è molto carina Con magari una collana con le perlini Eh, non lo so Diteci voi Oppure con una cosa bianca Non so È anche il bianco Poi guardate Ho preso da Yamamai Questo qua Oddio L'orrore ragazzi È troppo carina Io te gliela volevo far prendere E lei purtroppo la presa Guarda che bello odore È bellissima Plastica Praticamente È un porta Un porta qualcosa Questo è sicuro Ed era Pensate L'ultimo leopardato Non ci credo Volevo usare Sono stata troppo contenta di trovarla Però è piccolo Mi sarebbe piaciuto quelli Grandi 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 Volevo grande Per metterci I solari Al mare Invece così piccolo Che ci posso mettere Gli occhiali da sole Ah gli occhiali Ed è lungo Uffa Vabbè Comunque La senti La prima Racconsigliatemi voi Cosa ci devo mettere Ma è più il costume È un po' fantazioso Mettiamo le fantasie a piole Le fantasie Tigrate Le guardate Costume Nero Completamente nero Ragazze Cioè io Non è vero ragazze Cioè io pure Ah è vero Cioè Proprio Cioè Le piacciono le fantasie a piole E lo guardate Vabbè Comunque ragazze È semplicissimo È vero Però è ricamato Stoffa tipo ricamata Mi piace un sacco E poi E poi Il pezzo di sotto Invece Però Di fiocchetti Ha i fiocchetti E poi ha delle trasparenze Davanti Tipo A rete Tutto bucherellato Tutto bucherellato A rete Guardate come è bellissimo Questo da Yamaha È lo stesso topo di prima Che vi ho fatto vedere L'ho preso anche nero Alla fine Cioè si è presa Tutti i colori di top Perché Perché quando una cosa mi piace Io così La prendo Non si sape mai Poi guardate che bello Questo ho comprato La scativaccia Le collane di Brenna Si Si stanno portando adesso Infatti Da bevellista Adesso si stanno portando Di nuovo queste collane Con tutti gli elastici Le perline I fiorellini Ti piace? La vuoi? Ti piace? La vuoi una La vuoi una Se la vuoi No perché mi sei Guarda Appontato Poi da Zara Zara Una piccola Precitazione Non c'era nulla I salvi Non ci sono Ci sono cose a maniche Lughe Lughe Bruttissime Allora ho preso Questo qua Però ho trovato Un affare È vero che le cose L'ho non brutte Però ho trovato questo Che è l'unica cosa L'unica cosa Un po' grande Infatti è M Però costava solo 10 euro A me sarebbe andata Meglio una S Un po' Un po' grande Però comunque Mi piace Perché è fresco fresco È tipo una tutina Mi piace molto Il culule Ah Japsuit Si chiama Pantaloncino La vedo carina Da mettere tipo Con una zeppa sotto Nei pomeriggi d'estate Secondo me è carina No? E poi quando fai Te la metti Fai così No Perché ne vengono Tu vengono Le pomeriggi d'estate Ah no La materia Verde pistacchio Poi ho preso Poi ho preso queste scarpe Della Nike Che volevo tantissimo Ah queste Un uovo di paio Nike Per la palestra E ma perché no Anche per uscirci Perché a me le Nike Piacciono sempre Io le adoro le Nike Ho comprato queste qua Che sono troppo carine Le ho pagate poco Perché c'erano Di saldi Di saldi Le ho pagate veramente poco Non ci uccidete Ma non sappiamo No vabbè Comunque queste qua sono belle Perché l'interno è fucsia E fuori è blu E con la linguetta Fucsia blu Bianco Sì è fucsia E sono super fresche Leggerissime Sottili Molto traspiranti Con i laci fucsia Che spezzano Comunque sono troppo troppo belle A te piacciono? Sì Ti voglio Tipo la colpata L'uccino di jeans Sì anche è bella Tutti i giorni Mi piacciono ragazzi Fatemi sapere Dai te la provo Ah meno male Grazie Mi ho preso anche queste scarpe Da becca Belle queste Mi piacciono Sì insatto Saranno le mie scarpe stile Sono color cuoio Però chiaro E tipo di un camuscio vero finto Non piacciono insatto Poi vanno fino alla tappa Da becca Ah sono proprio belle Poi mi sono stato Tanto comodo Si fanno fatte apposta per te Sembrano scomode Invece ragazzi Quando le indossi Per me non sopportare i tacchi Sono comodissime Perché è capo Il quadrato Non ne ha stile Ragazzi I piedi sono proprio stupende È vero Poi con la pelle abbronzata Con la gamba abbronzata Secondo me Mettono il salto Non sono piaciute Me le presti No per nulla Sono mie e sono mie Anche io ho comprato il costume Nenzi Ho comprato da Calzedonia Questo costume Veramente bellissimo Tipo fatto così È un triangolo Però è bello Perché è imbottito Ed è Quindi non è trasparente Perché io ho i bikini Quelli là Non mi piace che Insomma Sono un po' trasparenti Quindi cerco sempre un poco Di Un minimo di imbottitura Ti piace? L'abbiamo scelta assieme È vero Anche se devo dire la verità Ultimamente fanno solo fantasia a fiori È vero Tutti lo stupido E sembra che dobbiamo andare a cuore Non doveva nemmo Non doveva nemmo Sì Comunque il pezzetto sotto è bellissimo C'erano vari abbinamenti Ho scelto questo Che è fatto tipo a tanga Cioè dietro un po' sgambato Non necessariamente Con i fiammetti Con i fiammetti Io adoro i costumi Con i fiammetti Solo i fiammetti E mi piace quando dietro Sono piccolini Perché quando sono grandi Sembrano le mutandone No perché devi far vedere Il suo bel culetto Sì Dopo anni di sacrifici Di scuote Di abbinamento Voglio far vedere Mi piace il costume La mutandona No perché ragazzi Quando praticamente Il costume è molto grande Praticamente Appiattisce Diventa appiatto Quindi perciò cerco questo qua Troppo a che va al dentro No perché è volgare Però un po' più stretto Sì Perché il culetto Sembra più suodo Non so come spiegarvi Rispetto a quella Al mutandone Che lo schiaccia Diventa orrendo Quindi vi ho dato Anche un piccolo segreto Tutti al mare Tutti al mare A mostrare Che a pecchiare Ragazzi Questo è tutto Speriamo tanto Che questo video Vi sia piaciuto Che vi abbia straffato Qualche sorriso Fateci sapere Magari qualche idea Di outfit Perché no Se ci volete dare dei consigli Su come abbinare Diteci voi Cosa avete comprato Con i saldi Nel prossimo giorno Andremo a fare di nuovo Una missione Vorremmo andare ad H&M C'è qualcosa di buono Fateci sapere Da H&M Se c'è qualcosa di buono Qualche altro negozietto O qualche offerta Sì Vorremmo beccare Tipo il 70% Vorremmo comprare Qualche vestitino Qualche gonna setta Sì A me piacerebbe tanto Quindi fateci sapere Nei commenti Siamo proprio Nelle vostre mani Vi mandiamo tanti baci Ciao 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 Grazie a tutti.